Il presidente De Gasperi interviene col presidente del Senato Bonomi, con i ministri Scelva, Segni e Grassi, all'inaugurazione del nuovo Consiglio Superiore. Presenti Tupini, Banoni, Sforza, Saraga. Questo Consiglio, dice De Gasperi, aiuterà il rinnovamento della nostra scuola, cucina di uomini liberi, educati a vivere con dignità e fraternità. Gonella sottolinea le funzioni del Consiglio, estese a tutti gli ordini di scuola, compresa quella elementare. E il senatore Casati si richiama alla legge fondamentale sulla scuola, promulgata dopo il risorgimento col nome di un altro Casati. Ne evoca l'ispiratore, Francesco De Santis. Il ministro Lombardo è tra i primi a congratularsi con l'oratore. Il ministro Lombardo è tra i primi a congratularsi con l'oratore.